... no 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 si quello sono sicuri fatto gli ho dato la palla scarico per farlo di giocare e la palla la palla e la palla e 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 fatto fatto non faccio abbassare lui non la vedete te il bargo il mediano puoi se si lascia come la gioca si sei calmo semplice buona buona via passiamo anche da te bravo buona ma e porto porto o se c'è Mattia te lo dico io grazie Mattia eccolo là Mattia 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 aiutalo Mattia 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 Questa è la persona in atta. Stai fatto! Abbassati! Ma mi devo telecomandare io? Sì! 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 Guarda su Veloci da una parte all'altra In avanti accorcia Gira di fatto Basta lì Basta lì Uomo Dai insieme la palla a lavorare Basta lì Basta lì la tecnica è dove ve l'hanno insegnata la tecnica è stata un orientato di cento metri la tecnica è stata un'attività 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 Siamo alti, stai alto! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.